Il nostro lavoro che stiamo facendo qui insieme a Dea e a tutto il team che ha lavorato in questo progetto è riproporre questa attività anche nei prossimi anni per sensibilizzare ancora di più i ragazzi ma soprattutto creare un app di cifoni qui a Sibenik per un futuro veramente tradizionale Penso che è una buona opportunità per i ragazzi di imparare le tecniche di film e di sapere le cose come la camera e il microfono e solo film in generale Stiamo cercando di mostrare una giornata normale nella vita dei ragazzi in mia città È incredibile lavorare con voi come professionisti in una produzione in una grande produzione e vedere come è vero il film è un film